Guardatevi intorno. Domani non possiamo vincere. Siete stati fortunati. Ma domani non vi abbandonerà. Per vincere a questi livelli dovreste avere... un cervello e i denti per portare il mondo. Dovreste riuscire a pensare... sapete quello? Sapete saltare? Magari anche segnare ogni tanto da fuori se allenate nel modo giusto. Ma per giocarvela con una squadra bella... Andavo a continuare o siete stufi di questa sfinza di assurdità? Io sono... RETER! Un'altra incredibile! FATMATO SQUADRE! 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 Qualunque cosa accade Non importa cosa ti dobbiamo Mi fanno tornare le catene Quando mi tornerete le catene Sarai molto dentro 5 secondi Che sta succedendo? Tempo scaduto Che succede? Che c'è la cosa? Non è solo Non è solo Non è solo Che c'è la cosa? Che c'è la cosa? Che c'è la cosa? La cica Non mi fa tanto Non hai paura del... I grandi momenti Derivano da grandi opportunità E questo è quello che avrete stasera ragazzi Questo è quello che avete meritato Una partita Se ne giocassimo 10 Loro ne vincerebbero 9 Ma non questa persona Non stasera Era destino Trovasti qui Stasera Che esci alla Quando ti fa O non hai paura di Che c'è la cosa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.